Grazie a tutti. Si gira, d'altronde è quasi un film. Benvenuti alla cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione del premio letterario Città di Castello. Benvenuti anche se da lontano. Ci troviamo, come già accade da qualche anno, nel magnifico scenario del Teatro degli Illuminati, che molti di voi, fra quelli che hanno partecipato fruttuosamente anche a questa edizione del concorso, conoscono per essere stati ospiti già in precedenti circostanze. Scenario sempre maestoso, però voluto un po' triste, un po' melinconico, ma d'altronde, purtroppo, le cose stanno così. Lo potete ammirare soltanto da lontano. Siamo alla quattordicesima edizione, ma io sinceramente me ne sono accorto soltanto guardando, diciamo così, il Deppian, la locandina di presentazione di questa edizione, perché io ero convinto che eravamo alla diciassettesima, già, perché diciassette è un numero che, lo sapete, non è particolarmente felice, e questa edizione, per colpa nostra, non è particolarmente fortunata. D'altronde, il periodo che viviamo, lo conosciamo bene tutti, e quindi, ad un certo punto, era anche in dobbio la diretta streaming, che con grande sforzo anche tecnico stiamo cercando di portare avanti. Per fortuna, almeno quella l'abbiamo salvata. Di solito, e anche qui mi rivolgo in particolare a chi già ci conosce direttamente, era una bella cerimonia questa del Teatro degli Illuminati, e prima ancora negli anni scorsi al Sala degli Specchi del Circolo degli Illuminati. Allegra, festosa, con volti magari tirati dalla tensione, per non sapere ancora all'inizio la posizione nella quale avrebbero concluso il concorso, poi man mano più rasserenati, alla fine sorridenti, in particolare quelli che hanno vinto, chiaramente. Ora è un po' come dire più mesta del solito, però dobbiamo andare avanti, cercheremo di ravvivarla in qualche modo. Il periodo, lo conosciamo e l'abbiamo detto, è quello che è, però è necessario andare avanti. Un periodo nel quale sono entrate nel linguaggio comune espressioni particolari, delle quali forse neanche sospettavamo l'esistenza fino a qualche mese fa. Smart working, il primo che mi viene in mente, è un'espressione inglese, che tradotta letteralmente dice lavoro piccolo, lavoro agile, lavoro facile, come se fosse una cosa positiva. Noi in fondo, questa sera, qui dal Teatro degli Illuminati, stiamo lavorando in smart working, ma consentitemi, facile è un accidente, anzi, temo proprio che suderemo io e i nostri amici, che fra poco vi presenterò, le proverbiali sette camice, per cercare di tenere destra la vostra attenzione, lì da dove siete, chi a nord, chi a sud, chi al centro, chi all'estero, davanti al vostro computer a vedere quello che accade nel corso di questa cerimonia. Ci proveremo naturalmente. Un'altra espressione che abbiamo conosciuto meglio, diciamo, la conoscevamo già prima di questi tempi, è un aggettivo virtuale, l'aggettivo più in voga in questo momento, non c'è dubbio, perché sta diventando un po' tutto, molte cose quantomeno virtuali. Che cosa significa? Che magari, chissà, più avanti, speriamo di no, faremo acquisti, le nostre spese, in maniera virtuale, il che in fondo potrebbe essere un bene, perché spenderemo di meno. E chissà, forse mangeremo prima o poi in maniera virtuale, cerchiamo di cogliere l'aspetto positivo anche qua, faremo dieta da soli, senza supporto di nutrizionisti o dietologi vari. E, Dio non voglia, potremmo arrivare a fare l'amore in maniera virtuale. Beh, insomma, lì fortunatamente mi sono portato avanti col lavoro, già da un po', per cui, tutto sommato, che fortuna che ho avuto. L'impatto psicologico sarà per me meno forte. Cerchiamo di sorridere, amici, chiaramente. Proviamo un po' a strammatizzare, ma in realtà c'è poco da sorridere. Il periodo fa sì che ci siano state scelte, da parte di chi ci governa, difficili da prendere, per l'amor di Dio. Noi le subiamo tranquillamente, silenziosamente, perché altro non si può fare. Comunque siamo un po' tutti sotto la cappa del grande fratello, che ci dice, ci dirà man mano, che cosa fare, che cosa è buono, che cosa è no. Il buon Orwell ci aveva visto giusto, tanti, tanti anni fa. Va bene, bando alle malinconie e gettiamoci, che è quello che stanno aspettando in particolare, coloro i quali sanno di essere fra i vincitori del concorso, che sono dinanzi al computer, buttiamoci nel vivo della manifestazione. Lo faremo anzitutto presentandovi, e anche qui cerchiamo di ricalcare quello che era una scaletta, un iter consueto, presentando i giurati di questa edizione. Pronti via, partiamo. Poetessa e ricercatrice, dottore di ricerca e letteratura italiana, ha scritto su Vittorio Sereni e Eugenio Montale e diversi poeti contemporanei, ed è la curatrice della sezione poesia di nuovi argomenti. Tra il 2017 e il 2018 ha pubblicato le sue raccolte di poesia L'altro limite e trasparenza, signori Maria Borio. Applauso virtuale, chiaramente. E non solo virtuale, grazie per la collaborazione. Volto storico della RAI, da tanti anni ci guida alla scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro paese, con la sua famosissima trasmissione Sereno Variabile, di cui è autore e conduttore, giornalista, professionista, è stato docente universitario presso la LUIS di Roma e ha pubblicato con la RAI vari libri, l'ultimo dei quali Il Paese dei Mille Paesi è un inedito viaggio dall'estremo sud fino alle magnifiche vette alpine. Signori, Osvaldo Bevilacqua. I due giurati prestigiosi che abbiamo citato saranno più avanti con noi, diciamo non in persona, non direttamente qua, ma ci collegheremo sperando che le cose vadano bene. Saggista, scrittore poeta e docente universitario presso la LUIS, Guido Carli di Roma, principale fautore in Italia della lotta al divario generazionale, negli ultimi anni ha pubblicato il saggio bestseller Ladri di futuro, il romanzo distopico H24 e il suo ultimo poema in versi Lucifero, oltre a numerosi articoli su riviste quotidiani. Signori, Luciano Monti e lui c'è. Attenzione perché stiamo per parlare del fulcro del premio letterario Città di Castello. Scrittore, regista e attore di fama internazionale, parla per lui la sua voce inconfondibile, tra resi dalle spettacoli, ha fatto della ricerca poetica lo scopo di una vita condotta all'insegna dell'arte e per l'arte. e insostituibile presidente della giuria del premio letterario Città di Castello fin dalla sua prima edizione, un sacco di anni fa, Alessandro Quasimodo. E anche lui ovviamente non poteva non essere presente. Sono al tavolo, forse li vedrete, io non ho la percezione esatta di quello che vedete, però mi fido a grandi linee. Sono al tavolo con noi naturalmente Antonio Vella, che è l'organizzatore da lungo tempo, fin dall'inizio del premio letterario Città di Castello, l'anima vorrei dire, e anche l'assessore alla cultura del comune di Città di Castello, Vincenzo Tofanelli, che ringraziamo per la partecipazione. A questo punto direi di dare il via ufficialmente alla cerimonia di premiazione nella maniera più consona, Antonio, vale a dire dando la parola al nostro presidente, Alessandro Quasimodo. Allora, è aperto, è aperto? Sì. Beh, io sono presidente, adesso ho scoperto da 14 anni, quindi un bel record anche questo, però mi trovo molto bene. Mi piace Città di Castello, mi piace la famiglia Vella in toto, mi piace la composizione della giuria. Quest'anno il lavoro è stato molto più complicato, stranamente, non stranamente, poi ci ho pensato, ho detto, era logico che fosse così. e gli elaborati sono stati molto più numerosi del solito, un 150% in più, quindi insomma un lavorone di scelta, di scrematura, di lettura, eccetera, però devo dire è stato molto interessante. Le tre, diciamo, sezioni, stranamente la più interessante dal mio punto di vista, quest'anno, mentre di solito era un pochino meno, insomma, un po' più trascurabile, secondo me, un po' più noiosetta, è la saggistica. Quest'anno c'è stato veramente non sapere come giostrarsi per portare avanti tanti prodotti che erano tutti all'altezza di primissimi premi. Ecco, poesia si è un pochino più deludente in qualche modo, però poi, insomma, siamo riusciti ad arrivare al dunque, e la narrativa anche. Mi pare che quest'anno ci sia stata una possibilità di scelta molto maggiore rispetto agli anni scorsi. Io che altro potrei dire? Sono qua, mi dispiace non poter vedere il pubblico che mi segue, come gli altri anni, però, siccome io amo molto il teatro, anche se, come è stato detto poco fa ed è certo, io ho molta immaginazione, quindi lo posso immaginare anche col pubblico, posso immaginare anche una rappresentazione, è un teatro all'antica ed è veramente un capolavoro di teatro. Ringrazio tutta la famiglia Vella, Antonio soprattutto, perché siamo riusciti lo stesso, io ero d'accordo su fare anche virtualmente questa premiazione piuttosto che non farla, è sempre meglio fare le cose che in qualche modo fermarsi e bloccare una cosa importante come questa del premio Città di Castello. Grazie e arrivederci all'anno 21, spero con la gente. Bene, grazie Presidente, proveremo anche noi a pensarlo pieno il teatro degli Illuminati pur non possedendo la sua fervida immaginazione. Ci piace in questa sede ricordare e salutare anche gli altri prestigiosi membri della giuria che non sono potuti essere con noi neanche da lontano. Si tratta dell'ambasciatore Claudio Pacifico, del professor Giovanni Zavarella, della professoressa Marinella Roccalongo, del giornalista e scrittore Antonio Padellaro, l'attrice e scrittrice Anna Canacchis, il documentarista e scrittore Francesco Petretti, giornalista e segretario generale della società Dante Alighieri, Alessandro Masi, anche a loro mandiamo idealmente un abbraccio. È il momento di Antonio Vella, casa editrice luoghi interiori e associazione tracciati virtuali, chi più ne ha chi più ne metta. Insomma, per dirla in una parola è colui quale ha inventato e porta avanti con grandi sforzi il premio letterario Città di Castello. Antonio, ti do un assist, ho parlato di edizione sfortunata. È vero forse soltanto per l'epilogo quest'esito finale, ma per il resto mi pare che i numeri siano stati straordinari o no? Grazie, buonasera a tutti. Grazie Renato, in effetti i numeri sono straordinari, al di là di ogni più rosa e aspettativa. Nel corso di questo mio breve intervento avrò modo di dare qualche elemento di riferimento rispetto alle passate edizioni. tanto porgo il benvenuto virtualmente anche io a tutti gli amici e agli scrittori che sono in collegamento da casa. Questa meravigliosa cornice del Teatro degli Illuminati che si è stato messo a disposizione dal Comune di Città di Castello e da Sogepu ospita una cerimonia di edizione la quattordicesima edizione del Premio Letterario Città di Castello una cerimonia appunto che non avremmo mai voluto vivere con queste modalità avremmo infatti voluto regalare ai finalisti una serata come tutte quelle vissute negli anni precedenti dove lo spettacolo si fondeva in qualche modo con le emozioni del pubblico e ovviamente le emozioni dei finalisti. La giuria e i miei collaboratori entreranno poi nel merito delle opere e delle classifiche dei contenuti a me come prassi in veste di presidente dell'Associazione Culturale Tracciati Virtuali è riservato il compito di ringraziare tutti coloro che hanno a vario titolo reso possibile la realizzazione di questa edizione del Premio Letterario un'edizione portata a termine nonostante tutte le difficoltà di carattere sia organizzativo che economico che abbiamo dovuto affrontare e che tutti voi potete senz'altro ben immaginare. una miriade di iniziative culturali in Italia sono state cancellate molti eventi hanno dovuto alzare bandiera bianca e hanno dovuto farlo in parte a causa delle difficoltà causate dalla pandemia ma anche a volte a causa di un'attenzione poco lungimirante che purtroppo le iniziative culturali l'istruzione in genere la cultura solitamente ricevono la cultura viene spesso emarginata e relegata quasi a un'attività amatoriale un hobby quando invece cultura e turismo potrebbero essere davvero elementi trainanti della nostra economia per noi è soprattutto passione vera e per questo non vogliamo mancare all'impegno che abbiamo assunto chissà cosa pensò durante Alighieri quando scrisse fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza oppure cosa pensò Benjamin Franklin quando sostenne che il rendimento dell'investimento in conoscenza è il più alto di quello di ogni altro investimento ci eravamo lasciati l'anno scorso tracciando un bilancio estremamente positivo e mai avremmo potuto immaginare che il 2020 avrebbe visto triplicare il numero delle iscrizioni ringrazio in primo luogo la giunta regionale dell'Umbria nella persona della presidente Tesei il presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta il comune di Città di Castello il sindaco Bacchetta e l'assessore Vincenzo Tofanelli che è con noi stasera e che ringrazio per le attenzioni che ha avuto verso l'associazione il premio in particolare in queste settimane e anche ringrazio gli altri enti che hanno patrocinato il premio sono patrocini storici ormai come quello della provincia di Ferugia la società Dante Alighieri l'associazione italiana biblioteche e la federazione unitaria degli scrittori è doveroso da parte mia accendere stasera i riflettori anche su tutti coloro che sono stati indispensabili a vario titolo per lo svolgimento di questa edizione mi riferisco in primo luogo al mio amico Paolo Picozzi socio fondatore insieme a me dell'associazione a mia moglie Antonella per lo scuro ma straordinario lavoro e supporto amministrativo ai miei figli Andrea e Francesca perché rispondono sempre presente alle mie sollecitazioni alla mia collaboratrice Alice Forasiepi che ha coordinato il team dei lettori redatto le schede dei lavori arrivati in finale e che stasera si presta all'insolito ruolo di lettrice ringrazio anche i lettori che hanno coadiuvato la nostra giuria e cioè Giorgia Bacchiorri Azzurra Frattegiani Mara Corbucci Erinda Islami Francesca Pinotti Andrea Vella Elisa Checaglini Maria Chiara Mancini e poi i privati obbligatoriamente da ringraziare ringraziare la banca di Anghiari Estia Credito Cooperativo le cantine Antonelli di Monte Falco il Country House Villa Selva che insieme anche ad altre aziende del territorio hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione per questo progetto culturale quando nel 2007 iniziamo questo percorso non avremmo mai immaginato di incontrare tante difficoltà ma se è vero che le difficoltà rendono più forti allora il premio letterario Città di Castello è diventata una realtà ed è diventato uno dei concorsi letterari italiani più strutturati e prestigiosi tanto da richiamare su di esso l'attenzione dei più qualificati operatori culturali se è vero come è vero che ogni anno molti professionisti del mondo della cultura si offrono per entrare a far parte di questa meravigliosa avventura in qualità di giurati ma come ripeto ormai da molti anni la parte predominante cari iscrittori e cari iscrittrici la condizio sine qua non per l'esistenza del premio siete assolutamente voi siete voi con la vostra passione per la scrittura che ogni anno rinverdite il nostro progetto e stasera avremmo davvero voluto vedervi qui a teatro con le vostre famiglie respirare il profumo dei vostri sogni e raccogliere le vostre aspettative ma c'è un'altra colonna portante di questa manifestazione e cioè la nostra giuria fin dalla prima edizione ho pensato che chiunque avesse incrociato il bando del premio avrebbe guardato per prima cosa da chi fosse composta la giuria e ho sempre pensato che una giuria seria competente affidabile rigorosa potesse e dovesse rispecchiare in primis le mie aspettative ma soprattutto anche le aspettative di tutti gli scrittori italiani che avrebbero desiderato iscrivere la loro opera e quando decisi di affidarne la direzione ad Alessandro Quasimodo al quale non sarò mai abbastanza grato ero certo di essere in buone mani e ho cercato di affiancargli sempre veri professionisti e così il premio è diventato quello che oggi è e grazie a tutti i tasselli di professionalità che hanno portato negli anni anche altri importanti giurati che si sono succeduti nelle varie edizioni ricordo per tutti Carlo Verdone Barbara Parrombelli Valerio Massimo Manfredi e tanti altri stasera però desidero ringraziare in modo particolare chi affianca Alessandro e cioè in questa edizione cioè Antonio Padellaro Anna Canachis e Luciano Monti Alessandro Masi Claudio Pacifico Marinella Roccalongo Francesco Petretti Maria Borio e Giovanni Zavarenna ho voluto lasciare per ultimo Osvaldo Bevilacqua non certo per l'importanza ma soltanto perché è il nostro nuovo compagno di viaggio nella giuria del premio è un grande professionista della cultura italiana un giornalista di grande spessore professionale e una persona di grande umanità ringrazio di cuore Osvaldo per essere entrato nella nostra squadra lo ringrazio anche perché la sua straordinaria esperienza ci sarà da guida nelle prossime edizioni volevamo appunto presentare come ricordava Renato in queste giornate finali del premio il suo libro il paese dei mille paesi non è stato possibile ma sono certo che riusciremo a farlo quanto prima cari scrittrici e cari scrittori siete stati valutati da una giuria competente e professionale le letture in forma anonima rappresentano mi avviso la migliore garanzia di imparzialità che si possa assicurare e voi finalisti siete entrati nella decade finale del premio e questo deve essere da voi valutato come un successo comunque se consideriamo il numero di autori che si iscrivono ogni anno al concorso per dare qualche numero ricordo che a questa edizione sono state iscritte 176 opere di narrativa tra romanzi raccolte di racconti 183 sillogi politiche e 72 saggi quest'anno non abbiamo potuto nemmeno realizzare anche altri eventi collaterali che avevamo programmato come presentazioni di libri per esempio quello dell'ambasciatore Giuseppe Mistretta La bottega degli alibi e un romanzo di Eugenia Veneri sabbia nera e candide mani anche questi contiamo di poterli mettere in programma quanto prima oltre al profumo di letteratura stasera nel teatro legge anche un soffio d'arte come potete vedere dalle opere che sono esposte qui davanti al palco sono opere che l'artista Walter Ceccarelli romano ha voluto donare ai premiati e io desidero ringraziarlo davvero con grande affetto per questo omaggio che prosegue la tradizione delle precedenti edizioni al cui al terzo classificato viene donata un'opera d'arte di un maestro italiano più tardi lo conosceremo in dettaglio ma ho piacere di leggere queste due righele che lui ci ha inviato anche lui ha rammaricato di non poter essere qui con noi stasera e lui dice desidero ringraziare Antonio Vella per aver scelto quest'anno quattro dei miei dipinti come dono per i vincitori del premio letterario per avermi dato l'opportunità di vedere condivise le mie opere con un pubblico qualificato in una manifestazione il cui contesto si configura come il migliore possibile a stimarne il valore so quanto Antonio apprezzi i miei lavori dipingere per me come scrivere per uno scrittore è una necessità ho dipinto da sempre e la mia pittura ha conosciuto diverse fasi i quadri che ho donato rappresentano ognuno una fase dall'osservazione del mondo selvaggio con occhio scevero di nozioni ma ricco di passioni è nata la Relaser Art un nome che come spiego sul mio sito ho tratto dall'etologia quest'arte è un cogliere la natura nel momento in cui si ricrea per chi ha voglia o per chi è spinto da semplici curiosità e desideri può tranquillamente andare online e digitare Relaser Art e avere tutte le informazioni grazie Walter per questo straordinario omaggio che hai fatto al premio senza pubblico non è facile per nessuno né per me e credo che il pubblico manca soprattutto al mio amico Renato Borrelli che da anni conduce davvero professionista questa cerimonia e che quest'anno ha quindi un compito più arduo del solito e soprattutto ha un nemico in sala il silenzio ma vedrete che non deluderà nemmeno stavolta e a voi che ci seguite da casa una raccomandazione la solita che amo fare alla fine del mio intervento non smettete mai di scrivere e non smettete mai di leggere noi faremo la nostra parte ieri ho contattato tre grandi professionisti del campo della letteratura e del giornalismo che hanno accettato di entrare a far parte della giuria è il miglior viatico per entrare da domani stesso con la testa e con il cuore nell'edizione 2021 del premio letterario Città di Castello grazie 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 Antonio Antonio Vella anche per la plastica dimostrazione del classico sarò breve ho detto che cerco di sdrammatizzare quindi devo farlo ad ogni circostanza non te la prendere ben conscia però ed è stato sottolineato dell'importanza del premio letterario Città di Castello è l'amministrazione comunale Tifernate noi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi l'assessore alla cultura Vincenzo Tofanelli che ci indirizza il suo saluto prego assessore grazie buonasera a tutti benvenuti qui a Città di Castello anche chi in forma diciamo virtuale ci vede in questo momento in questo luogo questo teatro storico per la nostra città che ovviamente l'amministrazione mette a disposizione di chiunque vuol fare eventi importanti e questo del premio letterario Città di Castello la quattordicesima edizione è un'edizione ed è un evento molto importante che la città ci tiene in modo particolare e speriamo di continuare sempre a supportarlo anche negli anni a venire ovviamente chi contribuisce a svolgere sul nostro territorio attività culturali e questa è importante questa del Presidente Antonio Vella con la sua associazione culturale tracciati virtuali a noi fa un grande piacere anche perché crediamo che la lettura assieme alla cultura siano dei baluardi contro diciamo chi vuole creare divisioni e contrapposizioni fra i popoli pensiamo che conoscere e conoscersi ci aiuta a eliminare molti pregiudizi e quindi questo è un fattore positivo importante niente abbiamo fatto tutto il possibile perché questa edizione potesse essere diciamo concretizzarsi e avevamo un appuntamento ieri sera in biblioteca che purtroppo è saltato ovviamente ce ne dispiace tanto purtroppo dobbiamo rispettare questi disciplinari che prima vengono dal nazionale poi anche dal regionale che ci impongono delle limitazioni io da parte mia vi aspetto tutti per conoscere la nostra città questo teatro e diciamo la nostra cultura il nostro paesaggio tutto quello che può offrire Cia di Castello quando speriamo questo lockdown sarà terminato e ovviamente vi aspettiamo per il prossimo anno assieme ad Antonio Vella e al suo premio letterario grazie e benvenuti a tutti grazie grazie assessore Tofanelli quanto mi mancano quei volti tirati che vedevo in platea dei premiandi che non sapevano ancora non conoscevano la loro sorte io mi ci divertivo un po' devo dire la verità un po' sadicamente mi manca questa cosa però cercherò di essere ugualmente sadico si fa per dire anche a distanza bene allora in quest'ottica cominciamo quasi a entrare nel merito perché voglio darvi conto dei premi che riceveranno coloro i quali sono stati chiamati fra l'altro Antonio diceva le tre decine sono un po' di più perché ci sono diversi ex equo quindi non sono 30 ma sono in numero superiore ma poi scopriremo man mano allora i finalisti riceveranno tutti quanti indistintamente un libro importante città di castello la porta dell'Umbria è un'opera di Katia Cecchetti nostra valida con cittadina illustrata da Enrico Mezzasoma ancora una copia del libro di Francesco Venieri il tempo del cambiamento una confezione di vini della cantina Antonelli di Montefalco perché è bene nutrire lo spirito ma anche qualcos'altro uno shopper in tela del premio letterario città di castello un set di matite del premio città di castello segnatamente invece quelli che vi citerò ora riceveranno in più il quarto classificato di ogni sezione premi per un valore di 200 euro il quarto il mi manca qualche qualche dato devo immaginare il quinto poi il quarto che arriva adesso premi per un valore di 300 euro mi sono un po' perduto il terzo classificato di ogni sezione riceve come premio ulteriore un'opera del citato maestro Walter Ceccarelli col quale faremo la conoscenza più tardi anche se in maniera virtuale tanto per tornare a quello che si diceva all'inizio il secondo classificato di ogni sezione riceve come premio la pubblicazione dell'opera con la casa editrice luoghi interiori niente male e il primo ancora di più la pubblicazione più premi per un valore di 200 euro insomma abbiamo dato il conto più o meno di quello che guadagneranno verbo antipatico in questa in questa circostanza però rende l'idea i nostri finalisti finalmente possiamo entrare nel merito lo faremo partendo dalla saggistica e viva Dio vi voglio presentare un volto che ingentilisce assai insomma questa platea prestigiosa dal punto di vista estetico un attimino carente a cominciare dal sottoscritto Alice Forasiepi grazie Renato che collaborerà con me nel darvi conto di quelle che sono parti piccolissime delle opere allora vi dico saggistica decimo classificato Alice il diario di viaggio di un antropologo urbano nel mondo post covid 19 per analizzare la nostra società con occhi diversi da un lato il giornalista che ha lavorato sul campo dall'altro lo scienziato sociale che ha colto letto e soprattutto interpretato i cambiamenti epocali che stiamo vivendo è una coppia lui antropologo culturale giornalista lei lavora nel settore sociale marito e moglie entrambi con la passione per l'arte la cultura e soprattutto la scrittura tanto da aver deciso di realizzare la loro opera a quattro mani fondendo le rispettive competenze con la società di lattice viaggio di un antropologo urbano nel mondo post covid 19 gli autori luca ciurleo e barbara visca applauso virtuale e non solo per i decimi classificati scendiamo posizione numero 9 cos'è la realtà e qual è il miglior modo di raccontarla l'interprete come figure a chiave tra l'autore e l'opera è al centro di un trattato sulle varie espressioni dell'interpretazione artistica letteraria musicale e giuridica nasce a Catanzaro dove vive tutt'oggi e ricopre la cattedra di filosofia politica presso l'università Magna Grecia il saggio che ha proposto al nostro concorso è un approfondimento dei temi principali che hanno riguardato la sua formazione post laurea con le ingannevoli certezze opacità e trasparenza delle ragioni retrostanti l'ars interpretativa Jessica Mazzuca brava ottava posizione condannata bandita cancellata dal dizionario del politicamente corretto ma ancora utilizzata in maniera dilagante la parola nigger ha una lunga storia alle spalle che questo studio linguistico approfondisce per spiegare perché debba essere in ogni modo evitata se il linguaggio è potere dobbiamo esercitarlo in maniera consapevole vive e lavora a Firenze dove insegna italiano come seconda lingua presso istituzioni straniere e compagnie multinazionali ha lavorato come traduttore di articoli interviste video e interi volumi e ha già all'attivo due pubblicazioni di narrativa e diverse collaborazioni con riviste scientifiche e quotidiani con nigger la parola proibita Renata Maria Perretti ottava classificata complimenti anche a lei scendiamo al settimo posto uno studio per indagare attraverso l'analisi delle opere delle interviste delle note biografiche e dei testi critici i luoghi di Italo Calvino metafora dei contesti e delle persone che hanno creato l'ambiente fisico e culturale che ha influenzato la sua opera letteraria originaria di Bergamo vive a Brivio in provincia di Lecco è una libera professionista nell'ambito della consulenza aziendale ma coltiva da sempre la passione per l'arte e la scrittura oltre ai saggi scrive poesie romanzi e articoli culturali con i giardini di Italo Calvino Maria Cristina Cireddu grazie sesta classificata il segreto di questo saggio è proprio il dialogo per rispondere a un'esigenza fondamentale della società contemporanea che prima di tutto ha bisogno di capirsi anche perché dialogare significa sempre intraprendere un viaggio verso aspetti del mondo ancora sconosciuti o che non sapevamo di avere già dentro di noi da Grigento laureata in filologia moderna e italianistica presso l'università di Palermo nonostante la sua giovanissima età è già autrice di un saggio che nasce proprio dalla sua passione per la scrittura scrive anche raccolte di poesie una delle quali ha partecipato a questa edizione del premio letterario Città di Castello il genere letterario del dialogo fra scritto e parlato Silvia Argento brava brava anche per la doppia partecipazione scendiamo al quinto posto un saggio sulla grandiosa operazione navale di protezione civile condotta con coraggio e grande determinazione da Plinio il Vecchio durante l'eruzione vesuviana del 79 d.C che ha scritto una delle pagine più luminose di storia navale e marittima dell'umanità Romano frequenta l'Accademia Navale conseguendo la laurea in Scienze Marittime e Navali a Pisa dopo il congedo assecondando la propria natura di appassionato cultore della civiltà romana si dedica interamente all'approfondimento dei suoi studi storiografici nell'ambito dei quali si colloca la pubblicazione di svariati suoi libri e saggi con quadriremi contro il Vesuvio Domenico Carro quinto applausi anche per lui cominciamo la teoria dei pari merito quarto classificato ma ce ne sarà un altro vai il processo terapeutico di una famiglia come punto di partenza per approfondire la relazione tra terapeuta e paziente in modo che questa diventi un grande strumento di cambiamento un complesso cammino familiare che riempie uno zaino ricco di emozioni insegnamenti professionali e di vita utili per il resto del nostro percorso Sarda di Cagliari psicologa e psicoterapeuta con un master in criminologia clinica e psicologia giuridica già autrice di due saggi e socia fondatrice di un'associazione ambientalista e presidente di un'associazione culturale con i fili dell'aquilone Daniela Murgiano quarta classificata a pari merito con un saggio per cambiare il linguaggio sulla violenza di genere in 40 anni come e quanto è cambiata la narrazione sul femminicidio il linguaggio dei giornali italiani ha un grande potere nella percezione del sopruso per questo è fondamentale scegliere le parole giuste milanese che vive in provincia di Ravenna è giurista criminologa e soprattutto scrittrice lei stessa racconta che solo quando scrive sente che sta facendo ciò per cui è nata nel 2019 un anno fa ha vinto la sezione saggistica del nostro concorso con l'opera se questo è amore la violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima poi edito da luoghi interiori con parole e pregiudizi il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio Maria dell'anno vecchia conoscenza in virtù della felice partecipazione dell'anno scorso prima di procedere con le prime tre posizioni della sezione che stiamo trattando vale a dire la saggistica con piacere diamo l'annuncio di un premio particolare vai una memoria vivida sorprendente in un uomo di 101 anni è la fonte primaria per ricostruire la vita avventurosa del comandante partigiano Mario Fiorentini o meglio le sue tre vite da intellettuale poi partigiano combattente infine professore universitario un uomo capace di grandi imprese che ci ricorda il valore della testimonianza di Roma è stato docente di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole superiori ha già scritto molti libri sulla resistenza sul giorno della memoria sull'obiezione di coscienza e sugli stessi temi ha curato più di 200 articoli ha partecipato a diverse edizioni del nostro concorso vincendo la saggistica nel 2017 con l'inutile strage contro storia della prima guerra mondiale poi edito da luoghi interiori premio speciale Alessandro Quasimodo e si prepara il presidente perché ci dovrà dire due parole a Giorgio Giannini con le mie tre vite bravo complimenti doppi anche per le passate partecipazioni presidente ho letto questo saggio con enorme piacere anche perché io sono da sempre un democratico sono un garibaldino sono un partigiano ecco leggere la biografia questa biografia avventurosa le mie tre vite di Mario Fiorentini che è tuttora vivente ha 101 anni che è stato partigiano poi ha partecipato a molte imprese rischiose e dopo alla fine è diventato anche un professore universitario universitario ecco io ho voluto sì mi fa piacere che sia premiato l'autore di questo libro ma il mio applauso va molto a Mario Fiorentini ecco perché condivido pienamente il suo modo di pensare di essere e questa sua vera partecipazione alla guerra partigiana è una memoria vivente uno dei pochi che ancora porta avanti questo discorso sperando che non venga dimenticato da nessuno ecco perché la resistenza è stato qualcosa di molto importante per la storia non saremo qui oggi a parlare con libertà e allora grazie al a Giorgio Giannini e grazie e a Mario Fiorentini spero che gli arrivi questo mio saluto grazie grazie presidente ora entriamo nell'Olimpo qui di solito davo il meglio di me nel tenere sulle spine i tre vincitori che non sapevano ancora come tutti gli altri l'ordine insomma del loro piazzamento beh dati da fare anche adesso qui mi manca la materia prima presidente sono un po' in difficoltà adesso studierò qualcosa per la prossima sezione nel frattempo prudentemente te do la parola ad Alice ricercano la stessa libertà l'anima di Dante l'aquila di Dante e il corvo di Pasolini allegorie di due progetti politici ed etici che sono un vero e proprio patrimonio culturale così li vediamo a confronto in questo saggio accomunati da una visione per cui letteratura e impegno politico non possono ne devono essere mai separati ecco un aspetto l'ho trovato perché i primi tre vengono tutti dal Lazio singolarmente questo di cui abbiamo parlato nasce e vive a Roma dove è stato docente negli istituti superiori e appassionato di saggi vanta già la pubblicazione di più di dieci opere fra cui ridendo la sovversione burlesca del rinascimento secondo classificato per la sezione saggistica del premio letterario città di castello di tre anni fa poi edito da luoghi interiori con l'aquila e il corvo passione e politica nel dantismo eretico di Pierpaolo Pasolini Massimo Desideri facciamo un applauso non ci mancherebbe e a questo punto abbiamo già detto che i terzi di ogni sezione ricevono anche un'opera una di quelle che vedete la dava forse vedete io vado sempre un po' a tentoni del nostro artista Walter Ceccarelli vogliamo dire due parole che lo riguardano oltre quelle e delle quali ci ha già reso edotto Antonio Vella architetto storico dell'arte cineasta e ornitologo è fra i firmatari del manifesto dell'arte animalista ha scritto e illustrato libri redatto cataloghi e collaborato a pubblicazioni di vario genere è teorizzatore come ricordato e sperimentatore della Releaser Heart e attualmente ricopre la carica di vicepresidente dell'Accademia Nazionale d'Arte Antica e Moderna una sua opera a Massimo Desideri e anche agli altri terzi che poi conosceremo grazie dunque da lontano se ci vede un saluto a Walter Ceccarelli siamo pronti per la seconda posizione eccoci quando una tendenza letteraria viene presentata come un sentimento più che un movimento quando non si serve di definizioni precise perché ha bisogno di essere avvertita più che capita nasce un saggio particolare che come unico strumento di lavoro ha l'immaginazione intesa come l'unica magia che l'uomo possa esercitare stiamo parlando di realismo magico e si rimane affascinati e un po' sorpresi di fronte all'impossibile che diventa reale Natalia D'Aprilia risiede a Cisterna di Latina dove svolge l'attività di accompagnatore presso il giardino di Ninfa eterna studiosa quando può scrivere anche lei una giovane autrice partecipando ad altri concorsi letterari ha già ottenuto importanti riconoscimenti con a proposito di realismo magico personaggi tematiche immaginaria confronto in bontempelli e masino Giorgia Pellorca ci dispiace particolarmente per lei che essendo nuova nel senso che non ha mai avuto occasione di essere premiata forse perché non ha partecipato in altre circostanze questo suo battesimo del fuoco se lo deve godere da lontano vabbè pazienza ci vedremo magari Giorgia nelle prossime edizioni come abbiamo detto rispetto agli altri premi anche il non secondario tutt'altro riconoscimento della prossima pubblicazione della sua opera presso la casa editrice luoghi interiori siete pronti per il primo premio anche Alice perché parlare di fascismo nel 2020 è possibile avere ancora paura di quello che in tanti considerano un fantasma o è meglio dire che il fascismo non è mai morto perché da esso scaturisce non un'ideologia bensì un atteggiamento una mentalità oltre a un vero sistema di potere ci risponde un saggio che analizza i fascismi di ieri e di oggi per scoprire che il fascismo non ha un'anima sola ma quattro forse cinque se non addirittura sei anche lui viene dalla provincia di Latina si è laureato in scienze politiche presso la sapienza di Roma e oggi vive tra l'Italia e il Regno Unito dal 1988 è anche giornalista pubblicista è già autore di una pubblicazione sullo sviluppo della sua terra d'origine nel dopoguerra con le sei anime di un fascismo ancora vivo Pietro Antonelli è il vincitore della sezione saggistica qui l'applauso dobbiamo farlo più forte Noi abbiamo come dicevo anche precedentemente dato in lettura tutti i testi in forma anonima e noi non entriamo come organizzatori mai nel merito delle pubblicazioni quindi non le leggiamo preventivamente fino al giudizio finale dei giurati dopo che la giuria ha trascritto la classifica definitiva della saggistica ci siamo accorti che la prefazione di questo libro che ha ricevuto il primo premio porta alla prefazione di un Tifernate che è Sandro Neri direttore del giorno che saluto affettuosamente anche perché aveva dato la sua disponibilità a venire stasera e a portare il suo messaggio anche di apprezzamento per questo esito della pubblicazione che porta alla sua prefazione e con Sandro speriamo di incontrarci presto grazie bene insomma era destino che l'opera di Pietro Antonelli prefatta da un Tifernate avesse trovato ampi consensi nell'ambito del premio letterario Città di Castello ancora complimenti a Pietro Antonelli che magari si sta guardando dalla Gran Bretagna visto che vive fra l'Italia e il Regno Unito lo salutiamo caramente anche per lui oltre a tutti gli altri premi la pubblicazione per la casa editrice luoghi interiori del suo le sei anime di un fascismo ancora vivo scaletta che come al solito poi stravolgiamo in corso d'opera a questo punto dovremmo avere ma chiedo conferma ad Antonio il collegamento con il nostro amico Osvaldo Bevi l'acqua dovremmo quindi diciamo che siamo in corso di perfezionamento ci siamo lo vediamo eccolo ciao Osvaldo che piacere ciao stai cavando bene stai dicendo che non ti trovi a tuo agio perché certo le emozioni sono diverse però guarda che io sono emozionato quanto te quanto gli stessi giurati e soprattutto chi sta vincendo chi si troverà assegnato questo premio letterario che sempre più cresce ho visto i dati 150% in più rispetto al 2019 di iscrizioni quindi questo la dice lunga e Antonio Bella devo dire che io lo considero in questo momento così critico questo momento che è iniziato già da diversi mesi è veramente un eroe è veramente un eroe perché lotta fino alla fine fino a ieri ancora aveva la speranza di poter fare qualche miracolo vabbè non è proprio riuscito il miracolo ma questo è già un miracolo perché migliaia di persone ci stanno seguendo ai streaming quindi la Gorà si è spostata ormai e ci dobbiamo sempre più abituare ad essere digitali e virtuali io stesso fino a 5-6 mesi fa non ero sui social poi qualche alta carica dello Stato mi ha chiesto di intervenire di aprire anch'io uno spazio una pagina e l'ho fatto volentieri e vedo che i risultati sono stati veramente lusinghieri per tranquillizzare la gente speravamo che fosse terminata quella fase invece mi ritrovo ancora a raccontare i territori per far sognare portare un po' di sogni nelle case come i sogni portano i libri che abbiamo sentito fino a questo momento perché il libro ci aiuta veramente a capire il mondo con un po' di anticipo a capire come ci si deve muovere qualsiasi libro bisogna leggersi veramente tutto e questa mission di Antonio che è stata dall'inizio quella di dare spazio agli sconosciuti ai ragazzi che magari non hanno modo di farsi vedere sentire in questo i social devo dire che danno una mano importante e quindi io sono molto contento di partecipare anche se avrei avuto piacere lo devo dire anche con una punta di disagio perché mi avevano preparato dei bellissimi tartufi erano andati a raccoglierli quindi io venivo per dedicare un ennesimo servizio a Città di Castello che è stata protagonista di tanti speciali da parte mia di Sereno Variabile un pezzetto dei cinque Guinness mondiali che ho avuto per la tv lo debbo anche a Lumbria lo debbo a Città di Castello perché grazie ai successi che sono stati determinati proprio da questi territori che ancora oggi escono sui social e io adesso preparerò sicuramente anche su questa serata su questo pomeriggio culturale un pezzo che andrò a pubblicare e sicuramente sono certo che avrà successo e questa ricerca di talenti di giovani sia nella saggistica nella poesia nella narrativa sta veramente dando risultati lucidieri io faccio i complimenti a già gli annunciati vincitori a quelli che verranno dopo e anche se purtroppo quelle belle poltrone sono vuote bisogna abituarsi a sentire il calore della gente che ci sta intorno e che in questo momento ci sta seguendo chi ci seguirà ancora anche nei prossimi giorni si guardrà questo che per me è sempre uno spettacolo meraviglioso voglio ringraziare il pubblico che segue voglio ringraziare Antonio Vella e lo faccio con come ha detto lui un Garibaldino doc con Alessandro Casimodo che rappresenta i giurati rappresenta la giuria e tutti coloro appunto che si stanno prodigando per far crescere questo premio letterario io starò sempre in prima linea ero disposto a venire l'ho detto anche ieri sera tardi se devo venire vengo poi mi ha detto no guarda non ti preoccupare ormai ci dobbiamo abituare a questa nuova fase e quindi l'ho fatto volentieri ecco sono qui ma ci sarò ancora con voi quando vorrete e vi darò gli spazi che sono a mia disposizione tra la televisione i social un po' dappertutto insomma e questo premio sicuramente crescerà ancora di più questo è il mio augurio grazie Osvaldo tranquillo per i tuoi tartufi ci sacrificheremo noi non ti preoccupare a presto ti aspettiamo a Città di Castello ciao ecco e sarà un grande piacere grazie di nuovo era Osvaldo bevi l'acqua bevi l'acqua new entry nella prestigiosa sempre prestigiosa giuria del premio letterario Città di Castello vedi Antonio io e te che siamo insomma dei neofiti tecnologici o quasi avevamo dubbi sul collegamento e invece era puntuale alle mie spalle e va bene meglio così anche perché poi ne avremo un altro abbiamo concluso con la sezione saggistica la possiamo archiviare ripeto c'è un po' di rammarico per non aver potuto festeggiare in maniera più forte i nostri vincitori ma speriamo di poter rimediare come ha già preannunciato Antonio non appena le circostanze lo permetteranno più avanti temo non prima di qualche mese con qualche iniziativa ad hoc bene a questo punto direi che è il caso però prima di introdurre la prossima sezione di sentire direttamente il nostro giurato del quale abbiamo già fatto la conoscenza cerco di recuperare tutti i miei fogli per non sbagliarmi rispetto alla scaletta è il momento e lo ascolteremo con grande piacere del professor Luciano Monti prego grazie io voglio cogliere l'occasione per pungulare un po' il nostro conduttore così anche l'evento volentieri si sveglia ecco perché come dire noto questo legge un po' una tristezza questo posto vuoto l'introduzione con Orwell il grande fratello io invece partirei da Axley rimaniamo sul tema il mondo nuovo cioè alla fine signori noi dobbiamo essere emozionati di essere qua perché stiamo andando verso un mondo nuovo nel mondo vecchio che era un po' drogato dalla Soma era la droga di stato di Axley noi siamo drogati dal fatto di volere fare tanto movimento e quindi di avere poco tempo perché in realtà siamo sempre a correre per essere ovunque oggi forse avremo meno possibilità di movimento ma abbiamo più tempo per noi stessi e quindi ecco anche perché sono aumentati i concorrenti perché comunque persone che probabilmente avevano dentro la possibilità di dire qualcosa ma non avevano tempo di farlo oggi abbiamo questo tempo per farlo voi direte sì ma bisogna mangiare allora adesso vi parlo da economista perché in realtà invece se noi sappiamo sfruttare bene il nostro tempo forse non dobbiamo più tanto muoverci anche perché il patrimonio culturale italiano che è fatto da tante cose dalla letteratura ma anche poi dalle grandi opere d'arte che ci sono in tutti i paesi a partire dalla città di Castello io tanto conosco la città di Castello da ben prima di questo premio quindi sono un appassionato di questa città da tempo perché per tanti motivi che non possiamo spiegare adesso ma comunque è una città che mi piace molto bene è una delle poche cose che non possiamo delocalizzare noi possiamo ci possono portare via le fabbriche ci possono spostare i lavoratori ma la cultura che noi abbiamo è radicata qui quello che noi produciamo qua come nostra creatività italiana che si traduca in un libro in una poesia in un romanzo in un saggio in una bottiglia di vino in un piatto di pasta sì lo possono portare fuori ma non ha quel respiro che c'è qua quindi in realtà io farei un applauso a questa edizione perché ce la ricorderemo per sempre perché questo è un momento emozionante non deve essere un momento triste anche durante la guerra si facevano queste cose c'è periodo in cui non potevamo passare le frontiere io provengo da una città che è Como che è stata frontiera quindi alcuni miei parenti aiutavano gli ebrei a passare la frontiera c'era un momento in cui la frontiera era una frontiera non adesso quindi io provocando dico dovrebbe essere vorrei impongo al nostro conduttore di avere un sorriso per tutto il resto della perché veramente cioè è un momento in questo caso deleghiamo Alice che come sorriso no certamente poi dopo ecco io adesso poi non parco un dicio giustamente sono visto tra l'altro quindi questo è importante detto questo detto questa brevissima premessa è chiaro che la narrativa è quella che ci permette di viaggiare la narrativa ti porta ti porta indietro nel tempo adesso non voglio poi anticipare ovviamente fare spoiler tra i primi classificati il romanzo storico sta tornando o meglio il romanzo in ambientazione storica sta tornando e ce ne abbiamo avuti diversi in questo in quest'anno qua il guardare indietro però vuol dire anche guardare avanti gettare un ponto verso questo mondo nuovo di cui non conosciamo ancora bene i contorni ma non dobbiamo tornare indietro la resilienza deve essere trasformativa quello che stiamo provando oggi è un anticipo di una cosa che poi il che non vuol dire che staremo sempre in lockdown o con limitazioni ma la possibilità di dedicarci più tempo e di poter apprezzare le opere è fondamentale e infine anche di apprezzare il ruolo della parola perché purtroppo devo dire in politica in particolare si è fatta della parola un'arte in realtà la parola è parola se è contenuto il politico in realtà dovrebbe fare azione dovrebbe governarci comunicare come lo fa ovviamente ma non comunicare basta deve anche fare il letterato comunica un contenuto un messaggio e queste opere anche quelle inedite che poi giustamente chi l'obiettivo di partecipare è di vincere tutti partecipano per vincere e quindi per essere pubblicati a quel punto la parola è contenuto ed è tanto più contenuto quanto più sarà letta da più persone così come oggi quindi come dire noi oggi siamo qui a rappresentare il futuro del nostro paese in un momento in cui la cultura oggi è più importante di prima lo dico anche appunto grazie anche ci sia l'assessore alla cultura cioè è il motore della ripresa italiana e dobbiamo essere orgogliosi e fieri in un momento come questo quindi grazie diciamo a tutti voi grazie a Vella che ha avuto il coraggio di fare comunque questo evento ma facciamolo col sorriso facciamolo con la consapevolezza che non è una serie B la quattordicesima edizione passerà alla storia del premio alla trentesima ve la dirà vi ricorderete quella famosa edizione quando c'era il conduttore che all'inizio un po' non aveva il pubblico invece finirà io sono sicuro che finirà in grandezza quindi io propongo intanto un applauso al nostro conduttore e alla nostra grazie per l'incoraggiamento e alla nostra elettrice ovviamente assolutamente grazie grazie professor Luciano Monti anche e soprattutto per la ventata di ottimismo sì ho cominciato in maniera un po' teta però poi ho precisato che avrei cercato di vivacizzare un attimino la situazione faccio quello che posso insomma senza interlocutori ma ci stiamo lavorando bene direi che a questo punto possiamo gettarci sulla narrativa se Antonio mi dà l'ok insomma ok me l'ha dato ve l'assicuro ragione per cui possiamo partire con il decimo classificato Alice una favola moderna che regala a tutti l'occasione di tornare un po' bambini per imparare l'unico insegnamento che davvero conti usare sempre l'amore per superare le difficoltà della vita si dice spesso che i personaggi si liberino dalla penna del loro autore ma cosa potrebbe accadere se lui potesse imprigionarli sulla carta prendendoli direttamente dalla vita reale autrice blogger e scrittrice di cinque raccolte di brevi racconti nasce a Tortona e vive in provincia di Pavia lei è Nadia Mogni decima classificata con la formula della libertà brava e siamo pronti per il nono intrighi messaggi in codice colpi di scena nella missione che Emma Freemont sta svolgendo per conto dell'ONU in Sud America per combattere la tratta degli esseri umani e il traffico degli organi geopolitica avventura e sentimenti si collegano per tracciare la via per la pace sempre in bilico tra diplomazia e autorità Piemontese di Biella affronta negli anni diversi viaggi all'estero un percorso di crescita che la porta dal centro UNESCO di Torino al Parlamento europeo di Bruxelles fino al Ministero degli Affari Esteri si laurea in relazioni internazionali e diritti umani porta avanti ancora oggi progetti per la cooperazione allo sviluppo nel continente africano ha già partecipato l'anno scorso al premio letterario Città di Castello con il romanzo Sabbia Nera e Candide Mani poi edito da Luoghi Interiori e Eugenia Veneri con Giro di Vite complimenti altra vecchia conoscenza cominciamo la teoria degli ex equo se ne sono diversi qua vai ottavo questa storia è un percorso sul sentiero delle parole simbolo di un linguaggio universale che va al di là di ogni popolo e oltre ogni tempo la scoperta di antichi reperti tra cui una mappa di agave millenaria permetterà ai protagonisti di svelare un mistero capace di far riscrivere la storia e dare una speranza all'umanità di Roma di Roma ma vive a Latina dove lavora all'ospedale civile come anestesista rianimatore è inoltre docente di farmacologia presso la facoltà di scienze infermieristiche vanta già la pubblicazione di due romanzi lei è Luciana Riccio con l'infinito in una foglia di agave ottava complimenti e andiamo con un altro ottavo vai dal sentimento di sé al selfie questa storia ci porta nello sguardo dell'autoritratto o meglio nell'espressione facciale che ne deriva quando due medici decidono di salvare l'umanità da una nuova preoccupante patologia mandibolare causata proprio dalla suefazione all'autoscatto autore romano manager in una multinazionale appassionato di cultura per lui le parole rappresentano la più emozionante forma di espressione curioso il fatto che tutti i suoi testi partano da una prima bozza nelle note del suo smartphone a indicare che ama mettere sempre nero su bianco tutte le emozioni che vive è Filippo Gatti con c'era una volta il selfie ottavo a pari merito possiamo andare con il settimo vai è una sfida mortale quella lanciata al commissario Pilati da un killer spietato che con l'escalation dei suoi omicidi scoprirà una sorta di scala reale sul tavolo dell'indagine con il re di picche la quinta e ultima carta che metterà in gioco brilleranno fuochi artificiali nel gran finale per rivelare al mondo celate verità nasce e vive in provincia di Mantova scrittore di numerose opere tra cui romanzi gialli partecipa anche a diversi premi nazionali dove ottiene importanti riconoscimenti e Alberto Rebuzzi con il killer dei sapienti settimo anche lui a pari merito bravo a pari merito con lo scopriremo fra un attimo un adolescente che gioca baseball sognando l'America una squadra per crescere confrontarsi in una Calabria un'ottanta bellissima e tragica ci sono romanzi che sanno guardare da dentro un personaggio fino all'apparire quasi miracoloso di una persona completa perché non c'è formazione senza esperienza non c'è trasformazione senza una storia da raccontare Di Carrara vive attualmente a Pisa poco lontano la sua passione per la scrittura lo porta a scrivere diverse opere una delle quali ha ottenuto recentemente il primo premio in un concorso nazionale è Marco Puleio con il baseball di Viale Calabria bene settimo a pari merito siamo pronti per il sesta posizione in una Pietroburgo intrisa di superstizione e misticismo a un povero uomo accade di scambiare l'esistenza con quella di un nobile conte perseguitato da oscure presenze tra un mistero tra mistero e suggestione aleggia la magnetica figura del diavolo che ottenebra le menti di una città ricca di leggende nasce a Milano si laurea in lettere moderni a Padova dove svolge l'attività di docente oltre alla passione per la pittura coltiva fin dagli anni 90 anche quella per la scrittura dalle prime pubblicazioni su riviste a fumetti fino a vincere nel 2019 il premio letterario Riviera del Brenta lui è Pier Giuseppe Cavalli con Il diavolo a Pietroburgo sesto classificato c'è un pari merito anche per il quinto è un lungo sogno fatto di sette racconti quello di Costantino popolato di spiriti vagabondi arrivati a una fase di stasi nelle loro esistenze in cui non è difficile cogliere l'eco dell'omonimo affresco di Piero della Francesca di epoca tardoantica sarà un viaggio attraverso voci cambiate in cui potranno convivere identità multiple capaci di alterare anche la linea del tempo Laziale vive in provincia di Viterbo è laureata in lingua e letteratura straniere all'università della Tuscia oggi è un insegnante di scuola secondaria da anni si dedica alla scrittura coltivando un particolare interesse per la ricerca strutturale e linguistica Elisa Moretti con Il sogno delle voci cambiate e quinta posizione alla quattordicesima edizione del premio letterario Città di Castello ogni tanto ricordiamolo che male non fa brava altro quinto l'Italia dalla grande guerra fino ai giorni nostri dà rifugio ad una raccolta di racconti che sono un vero e proprio ritratto del secolo scorso tra conflitti solitudine inclusione amore ma soprattutto diversità per arrivare al nostro presente uniti anziché divisi per farci sentire parte senza sentirci esclusi per farci riflettere ed emozionare viene da Novara e direttrice di una importante biblioteca pubblica piemontese si dedica da sempre alla scrittura dai libri per ragazzi alle raccolte di poesie fino alla stesura di saggi un'autrice a tutto tondo che vanta la pubblicazione di innumerevoli opere è Eleonora Bellini con il diario di Elsa e altri racconti bene quinta classificata ve lo dicevo che erano molti più di dieci spesso in questa sezione altri due ex eco in quarta piazza vai una pittrice perduta un dottore che vive la sua solitudine in compagnia due storie brevi per dimostrare che nonostante la scrittura possa scegliere molteplici forme alla fine tutte concorrono a far risaltare la vasta umanità che ha fatto e farà la storia di tutti noi autore partenopeo laureato in lettere all'attività di docente affiancato da sempre quella di autore di testi scolastici sia per l'italiano che per il latino la sua passione per la scrittura lo porta a partecipare a numerosi concorsi nazionali sia con opere di narrativa che di poesia nel 2016 si è classificato al secondo posto della sezione poesia del premio letterario città di castello con la raccolta segreti questa è la quinta opera inedita che presenta al nostro concorso un fedelissimo Bruno Sacco con due storie e bravo Bruno altro quarto come istantanei di vita secentesca queste storie trattano aspetti della medicina poco noti al grande pubblico vicende umane che al di là delle limitate non di rato bizzarre terapie mettono in luce le profonde similitudini che ancora oggi ci accomunano ai medici e ai pazienti di allora perché 400 anni non hanno in sostanza cambiato il nostro modo di confrontarci con la malattia e la morte originario di Parma si laurea in medicina e chirurgia all'università di Genova approfondisce i suoi studi a Milano Parigi e Copenhagen dove attualmente risiede autore di vari articoli scientifici e di un manuale di medicina negli ultimi anni si è dedicato anche allo studio della storia medica europea fino a cimentarsi con le fiction pubblicando romanzi e racconti è stato già finalista in altre edizioni del premio letterario Città di Castello Luca Bianchedi con Mali e Rimedi quarto classificato magari ci segue dalla Danimarca eh Antonio siamo arrivati molto a nord prima dell'Olimpo anche qui ci sarebbe da tenere sulle spine i nostri tre che diamo un'occhiata da dove vengono sì vabbè insomma grosso modo ci sono due Toscani ve lo dico in via preliminare poi entreremo nel merito prima però anche in questo caso per questa sezione c'è un premio speciale Alice tira un lungo sospiro si fa coraggio questa storia per lasciarsi trasportare dal fiume dei ricordi e infiammare le pagine di una vicenda antica di amore di guerra tragedia e speranza un grande segreto in una lettera sarà un vaccino prezioso contro l'indifferenza moderna per non dimenticare il passato ma trarre insegnamento e forza nasce a Brescia ed è la più giovane autrice che partecipa quest'anno al nostro concorso infatti a soli 14 anni Emma è un bellissimo esempio di come la passione per la scrittura possa essere coltivata fin da giovanissimi per creare opere degne di un riconoscimento in premi letterari nazionali e internazionali come il nostro premio letterario di Città di Castello 14 anni brava davvero Emma Cremaschini con ti porto con me premio speciale come più giovane partecipante all'edizione 2020 facciamo un applauso perché i giovani vanno incoraggiati e poi Antonio ci dice qualcosa ovviamente salutare Emma perché ha colto lo spirito della nostra associazione l'associazione si chiama tracciati virtuali non è un nome casuale è un nome che vuole significare un percorso di divulgazione della cultura in tutte le sue forme il nostro seminare tracciati è quello che vuole appunto delimitare un percorso di crescita di tutta la nostra popolazione dalle generazioni più giovani e anche portare diciamo la passione per la lettura e la scrittura anche in altri ambiti Emma incarna pienamente questo spirito perché ha 14 anni ha una penna meravigliosa e quindi gli facciamo come associazione e anche come editore i migliori auguri per un percorso fiorente di scrittrice che abbia tutti i successi che merita grazie brava brava Emma giovani autori crescono la ritroveremo immagino sicuramente qui da noi negli anni a venire e anche chissà in scenari ancora più prestigiosi bene abbiamo detto l'Olimpo i primi tre notate mi rivolgo al professor Monti in particolare la sottile perfidia nel dare conto che ci sono due toscani perché ovviamente uno non sa dell'altro diceva perfidia che sarà ancora ulteriormente accentuata conoscendo il terzo classificato vai il mistero dietro la scomparsa di Angelo Ferri affetto da disturbo bipolare porta ad aprire i battenti di una struttura psichiatrica per bambini che nasconde un passato difficile da affrontare quando una foto con la sua storia di dolore ormai dimenticata ha finalmente il potere di emergere dal fiume dei ricordi e portare a galla la verità Natali Sabaudi è di Torino ma oggi vive ad Anghiari qui vicino a noi provincia di Arezzo dove è funzionario commerciale da sempre coltiva la passione per la scrittura che vorrebbe diventasse non più un semplice passatempo lui è Lorenzo Fuligni con Il manicomio degli angeli terzo classificato per lui dunque anche una di quelle opere che i nostri amici alla camera inquadreranno sicuramente una delle opere di Walter Ceccarelli dicevo perfidia accentuata perché i toscani sono sempre due e due sono i premi se uno è rimasto attento a quello che ho detto io tra i due si dovrebbe capire chi ha vinto ora vediamo è un rebus ci manca ci manca la controprova però adesso vedremo secondo classifico è automatico riconoscersi nel luogo di madre solo per il fatto di aver messo al mondo un figlio siamo tutti predisposti alla vita matrimoniale e quanto costa ammettere di non esserlo questo è il romanzo coraggioso che parla di famiglia e lo fa con una storia che parte da un tragico incidente in motorino solo attraverso il dolore si cresce e solo faccia faccia con esso scopriamo cosa passa tra vivere la vita e lasciarsene solo attraversare sta tutta lì la sottile differenza Fiorentino vive nel capoluogo toscano dove da anni lavora nel campo finanziario nel 2014 rientra fra i finalisti del nostro concorso con il romanzo Maledette Hortensie l'anno scorso con la raccolta di racconti La strada verso casa entrambi poi editi da luoghi interiori nel 2017 con il romanzo La verità ha bisogno del sole vince il premio Memorial Giovanni Leone la sua passione per la scrittura gli regala molte soddisfazioni in tantissimi concorsi nazionali mi permetto di aggiungere anche un'altra volta in questo perché Federico Fabri con LSD si guadagna la seconda piazza bravo complimenti siamo al primo classificato lei già sa chi è gli altri no ovviamente però ora lo diremo a tutti vai Alice una storia che è ragazza e donna diritta elegante sinuosa al punto giusto attenta a tutti i suoni perché in ogni pagina ben riuscita tutto fa musica insomma un romanzo al femminile fatto di miseria violenza conflitto ma anche amore e cultura un libro che a bocca chiusa emana melodie suona con gli occhi e ci mette tra le mani una bacchetta immaginaria per dare il giusto ritmo ad ogni cosa che ci circonda autrice toscana come è ampiamente evidenziato in precedenza laureata in scienze economiche e bancarie appassionata di storia e di scrittura ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo molte gratificazioni e riconoscimenti così tanti da non poterli davvero riassumere in queste poche righe come lei stessa riporta in una citazione per scrivere bisogna saper captare segnali che poi in fin dei conti non sono altro che emozioni Giulia ma l'inverno ricceri dentro la vita è l'opera che vince la quattordicesima edizione del premio letterario Città di Castello sezione narrativa applausone quanto più forte riusciamo a farlo nei quattro gatti che siamo brava brava Giulia bene vedo che stiamo andando spediti beh insomma chiaramente era era d'obbligo lo sarebbe sempre anche nelle altre circostanze negli altri anni ti ricordi Antonio è un po' macchinosa la questione poi però bene o male arrivavamo alla fine dopo tre orette una volta ce la caveremo con meno perché ci manca l'interlocuzione dei nostri premiati a questo punto con un bricio di timore per insomma i precedenti dovrebbe esserci Maria Borio in collegamento abbiamo notizie Antonio vediamo eccola buonasera Maria anche noi buonasera a tutti buonasera a tutti mi dispiace molto ecco per non essere lì però insomma si fa quel che si può in queste circostanze e avendo seguito già praticamente quasi tutto lo svolgimento del del premio e avendo ascoltato anche gli interventi degli altri giurati mi pare che comunque possiamo lasciare una testimonianza preziosa un segno un segno secondo me un segno secondo me decisivo prima appunto delle indicazioni riguardo la classifica dei vincitori nella sezione poesia la persona che mi ha preceduto il giurato che mi ha preceduto parlava di parlava di mondo nuovo e io sono perfettamente in linea con quelle con quelle osservazioni direi che quasi in modo profetico vi voglio raccontare una cosa personale una cosa di lavoro personale che forse in questa occasione può essere significativa nei mesi del primo lockdown ho avuto l'opportunità di realizzare per Radio 3 Rai un programma che ora si può ascoltare in podcast e che si intitola Dal deserto rosso ovviamente il tutto era nato da una similitudine tra la zona rossa allora e il deserto rosso di Antonioni il film del del 64 se non sbaglio dove Antonioni attraverso questa metafora raccontava l'alienazione degli individui in una società che era diventata capitalista industriale era una società che metteva da parte l'uomo che lo disumanizzava e sulla scia di questo senso di appunto di disumanizzazione credo che si giochi proprio l'immaginario che stiamo vivendo tra l'umanità e la non umanità o la disumanità perché voglio dire questo voglio dire questo perché penso che tutti coloro che possono diciamo artisti scrittori poeti intellettuali o anche tutte le persone nel campo di altre scienze dall'economia alle scienze esatte cioè dall'economia alla medicina per dire che possono in questo momento prendere una posizione credo che sia bene che la prendano nei favori di una riumanizzazione vi spiego un pochino due cose in letteratura negli ultimi decenni si è parlato tanto di post-umanesimo enfatizzandolo come come se fosse una una nuova una nuova corrente un po' come si dice trendy da seguire a tutti i costi cioè il post-umanesimo è quello in cui diciamo soprattutto il romanzo più che la poesia ma esce dall'umanesimo tradizionale cioè da quell'idea di antropocentrismo dove c'è l'uomo al centro l'uomo che è il fautore della sua fortuna quindi che è poi quello anche dell'individualismo che ci ha accompagnato fino alla fine del novecento diciamo e in senso un pochino nichilista dice ok mettiamo da parte mettiamo da parte l'uomo e affianchiamolo dalla tecnologia cioè l'intelligenza umana viene soverchiata dall'intelligenza artificiale dalle macchine dal digitale ma noi ora in questo momento possiamo vedere che anche attraverso il digitale anche attraverso uno schermo riusciamo a come dire a incrociare i nostri limiti cioè i nostri limiti nel senso limiti di spazio di pensiero di empatia quindi sì cioè a me piacerebbe che questa idea di post-umanesimo sia chiaramente un superamento dell'umanesimo individualista ecco tradizionale che comporta anche un certo tipo di economia e di politica ma verso una direzione neo-umanista e tutte le attività come questa questa del premio di città di castello senz'altro lo enfatizzano e il deserto rosso per tornare ad Antonioni da dove ero partita può essere che cosa un momento per fermarci e riflettere quindi non solo le notizie i dati la statistica ma qualcosa che costruisca contenuti di riflessione e contenuti di riflessione siamo qui noi a costruirli perché la parola il linguaggio sono qualcosa di estremamente delicato e che viene anche così proprio mangiato corroso dalla retorica della comunicazione odierna dalla retorica dei social per dire non lo so su Instagram i più giovani che mi seguiranno lo capiranno bene su Instagram ci sono le storie le storie sono una come dei piccoli cerchietti dove si clicca e per meno di un minuto può comparire un'immagine possono comparire delle parole però hanno una brevità assoluta che non cura la parola e questo è anche un problema per l'italiano che è ancora una delle lingue più studiate al mondo però rispetto alla globalizzazione linguistica di lingue di altro tipo insomma si sta indebolendo sta perdendo un pochino la sua ricchezza quando parliamo che cosa significano veramente le parole che usiamo e per questo chi usa le parole nella sua nel suo lavoro nella sua professione poeti scrittori lo fanno sì per comunicare ma lo fanno anche vorrei sottolinearlo una cosa molto importante per dare una visione per parlare di un immaginario non è solo la comunicazione è anche qualcos'altro e questo è importantissimo quella che è una loro è una professione che non viene in Italia non viene riconosciuto questo come se essere uno scrittore fosse qualcosa di non professionale di non professionalizzante invece lo è poi negli effetti anche lo è quindi iniziative come questa appunto dove c'è un riconoscimento dei valori mi sembrano mi sembrano importanti e questa era un pochino l'introduzione che che volevo fare e poi niente sono stata molto contenta di poter leggere queste opere ne sono arrivate tante è un ottimo segnale e c'è una eterogenità massima io ora cercherò di descrivervi un pochino le dieci opere della selezione finale dividendole per tre gruppi non svelerò i nomi chiaramente poi quello non è mio compito che mi sembrano le tre linee o i tre focus principali che questi che questi lavori portano allora il primo focus lo chiamerei così è un tipo di ricerca metafisica metafisica in che senso nel senso che ci sono dei diversi perché questo è il gruppo più ampio diversi testi in cui si riflette magari anche dall'esperienza personale anche da un tipo di attitudine che è quella insomma della tradizione lirica italiana su alcune alcune alcuni sentimenti alcune situazioni per darne un'interpretazione diciamo così ermeneutica un po' più ampia cioè si passa proprio dalla sostanza dalla materia sensibile immediata dalla realtà particolare a qualcosa di più universale e direi che ce ne sono diverse mi sembra addirittura io qui ho messo i miei appuntini 5 addirittura 5 su 10 porto anche io delle statistiche ma in questo caso sono evidenti seguono questa linea ed è particolare perché alcuni lo fanno recuperando cioè recuperando seguendo anche una dizione un pochino una retorica come dire tradizionale un italiano che leggendo non sembra l'italiano dell'uso corrente un italiano dove non lo so nella sintassi ad esempio ci sono delle delle anastrofi per dire che possono essere più caratteristiche della poesia italiana degli anni 50 una cosa del genere questo fa riflettere cioè vuol dire che comunque noi veniamo da una tradizione di poesia che fino a un certo punto è stata molto forte e che quindi nell'immaginario e anche per l'azione della nostra scuola voglio ricordare che purtroppo nella nostra scuola i programmi della letteratura del novecento sono ancora un pochino indietro cioè si arriva purtroppo ancora a Montale il primo Montale questo è un problema enorme quindi vanno benissimo i concorsi per gli insegnanti però un aggiornamento sui contenuti non sarebbe poi così sbagliato e poi invece ci sono degli autori che proprio anche da poesie che sembrano nascere da tracce di diario riescono invece a portare la scrittura in un linguaggio che è sì come dire anche se vogliamo a volte molto sentimentale però che è contemporaneo assolutamente contemporaneo e queste mi sono sembrate le più interessanti il secondo gruppo invece riguarda un recupero dei classici prima si diceva viene recuperato il romanzo storico in narrativa bene anche in poesia ci sono dei recuperi di figure del mito del mito della letteratura greca antica della letteratura latina soprattutto che rientrano anche in una tendenza che non è soltanto qui piccola nella nostra piccola provincia italiana ma è un pochino mondiale nel senso che ad esempio il premio Nobel Louis Gluck recupera i classici nella sua opera e lo fa in modo non filologico ma in modo organico cioè le figure dei miti sono consustanziali in qualche modo anche alla sua esperienza cioè per dire se parla di Achille è un Achille che lei può avere immaginato di avere anche incontrato o rivisto in persone che ha conosciuto veramente questo è molto interessante nelle nostre opere avviene un pochino la stessa cosa cioè ci sono dei insomma dei dialoghi o delle piccole scene come dei bestiari proprio con queste figure che sembrano venire da sbucare fuori da una mitologia come se fossero delle piccole miniature che escono fuori dalla pagina e si si materializzano si visualizzano quasi davanti agli occhi e infine il terzo gruppo che direi che è quello più piccolino per me e che riprende una tendenza più come dire teatrale nel senso che proprio sia nel ritmo della scrittura sia nella combinazione dei testi c'è un botta e risposta c'è un andamento più più parlato che sia un dialogo per dire d'amore cioè tra due personaggi possono essere un personaggio maschile e femminile o perché no anche due personaggi femminili o due personaggi maschili ma innamorati ora le interpretazioni sono diverse aperte però la teatralità si sente si sente molto e infine la forma teatrale può essere espressa anche nella come dire nella personificazione del soggetto che parla e che scrive in un personaggio immaginario quindi è come se il soggetto che scrive dice io non sono io ma sono un un altro personaggio con questo sdoppiamento o straniamento ecco straniamento del sé in qualcos'altro queste mi sembrano un pochino le tre linee guida e la cosa che vorrei ora dire e anche un messaggio da lanciare agli autori è che i libri sono stati appunto tanti tuttavia io rifletterei su questa cosa che cos'è un libro di poesia il libro di poesia è una raccolta di testi che ho scritto che metto insieme o è qualcosa che ha una struttura che ha un percorso che ha un inizio uno svolgimento una fine che non è la stessa cosa del romanzo intendiamoci ma che ha il suo mondo è la cosa più difficile da realizzare quando si fa un libro di poesia secondo me quindi cercherei di lanciare agli autori quest'idea che la poesia è sì scrivere il testo nel momento in cui lo si scrive ma anche quando si mette insieme il libro vedere o cercare una prospettiva che crei un immaginario perché noi costruiamo visioni costruiamo immaginari ed è la cosa anche di cui i lettori o gli ascoltatori hanno veramente bisogno quindi riflettere sul linguaggio e costruire questi percorsi e prendere per mano le persone e portarle dentro questi percorsi quindi niente con l'augurio che questa edizione sia un'edizione come una chiave di volta che si passi dal passato al futuro per un premio in cui personalmente credo moltissimo lascio appunto la parola alla segnalazione persona dopo persona dei finalisti e vi ringrazio grazie grazie Maria Borio ci vediamo presto a Città di Castello spero naturalmente e sarà un piacere per tutti noi bene possiamo procedere dunque con la sezione poesia ora che abbiamo cotto ben bene i finalisti rosolati a fuoco lento possiamo cercare di alleviare la loro sofferenza sofferenza si fa per dire perché alla fin fine sono tutti ugualmente meritevoli allora mettiamo a riposo Alice così almeno segue da spettatrice dopo aver ottimamente lavorato fino ad ora e invece facciamo lavorare non in smart working ma in presenza il nostro presidente che man mano ci darà conto delle opere che andiamo a citare partendo dal decimo classificato che proviene da Calvisano in provincia di Brescia è insegnante di lettere ha partecipato a numerosi concorsi letterari e pubblicato diverse opere fra cui alcuni romanzi con bestiacce Carlo Salvoni il presidente ci legge un breve brano è una poesia particolare in realtà è una filastrocca e qualcuno potrebbe chiedersi come mai una giuria di persone serie eccetera abbiano scelto una cosa così frivola in qualche modo ecco che dedicata forse ai ragazzini più adatta ai ragazzini però io dico che in fondo come giustamente Pascoli nel suo grande saggio parla il nostro fanciullino gode anche di queste cose quindi la parte un po' infantile di noi ha fatto sì che scegliessimo questo queste bestiacce e qui vi leggerò Donatello il pappagallo saputello aveva le piume arancione e un cervello grosso così pensava di fare lezione ma chiunque passasse di lì sapeva la storia del mondo e la tabellina del tre le specie del mare profondo e i nomi di quei sette re pensava che gli altri animali non fossero degni di lui avessero peli oppure ali ma senza ragione per cui di quel pappagallo secchione dicevano fosse un po' matto credeva sì un professorone ma era più scemo di un ratto pensava che la sua saggezza non fosse compresa dai più per me era solo stoltezza ma prova a ascoltarlo un po' tu bravo presidente siamo persone serie parlo soprattutto per voi però un po' di leggerezza non guasta e sottoscrivo in pieno per quel poco che mi consta siamo al nono classificato nasce e vive ad Assisi dove esprime la sua passione per la poesia partecipando a numerosi premi letterari ottenendo diversi riconoscimenti si dedica inoltre alla stesura di componimenti in dialetto nel 2015 ha pubblicato il libro di poesie i ricordi non muoiono e nel 2016 gocce di silenzi alcune sue poesie sono state recitate nel programma televisivo di Rai 1 i soliti ignoti Italo Landrini con tra cielo acqua e terra nono classificato l'ultimo riflesso all'imbrunire t'osservo mentre sorgnona rifletti l'ultimo respiro del sole le tue antiche pietre s'accendono sotto cielo terzo risaltando magico profilo prime luci della sera di stanche vetrate si rincorrono come lucciole in giugno e tu dolce assisi gemma d'occidente catturi vorace gli occhi e il cuore assisi che tutti amiamo noi umbri in particolare bravo Italo Landrini ottava classificata scendiamo in Sicilia vive in provincia di Catania è docente di lingua e letteratura inglese al liceo scientifico sin da ragazza ha coltivato la passione per la poesia e ha già pubblicato alcune raccolte e audiolibri con Coffee & Tea Jeanette Lart che è lo pseudonimo di Giuseppa Adriana Mudanò piove non molto non abbastanza scivolano rimpianti di cambiamenti desiderati mai attuati piove su questi non atti di pietra solcati da lacrime causate volutamente involontariamente ecco l'ombra nera di me terzo dal temporale ecco il me nuovo invano dall'ombra di sé trascinato nel tempo senza coraggio inerme come allora ottimo beh insomma una poesia letta da Quasimodo è già un premio di per sé certo se la leggevo io era una punizione ma per fortuna non ce n'è bisogno perché sono tutti meritevolissimi e siamo al settimo classificato è di Velletri vive in provincia di Latina dove svolge l'attività di docente dopo aver pubblicato alcuni testi realizza finalmente la sua prima raccolta di poesie che lo porta poi a partecipare ad alcuni concorsi a ottenere diversi premi lui è Giulio Mazzali con La forma nascosta della luce ho sempre amato della poesia ho sempre amato i bianchi spazi distese prive d'angoli e di curve dove sci e disegni si radunano esitanti prima dell'attraversata è lì il luogo dell'incontro il silenzio il mistero di Dio bene Giulio Mazzali applauso anche per lui scendiamo in sesta posizione torniamo in Sicilia Palermo dove insegna inglese la nostra protagonista al liceo e ricopre la cattedra di lingua e traduzione inglese all'università la sua fonte di ispirazione sono i rapporti umani l'impegno quotidiano a valorizzare gli incontri il tempo e il viaggio come metafora dell'esistenza la partecipazione a svariati concorsi la porta a ottenere altrettanti premi e riconoscimenti lei è Lucia Lobianco qui con Sono una barca la nostra storia cammineremo chilometri di vento prima di scrivere la nostra storia sulle pagine del tempo fogli fragili e leggeri voleranno insieme agli aquiloni per toccare il cielo con innocenza da fanciullo percorreremo sentieri di paure come sospesi sopra un filo ritroveremo certezze tra le pieghe nei cassetti di un mobile in soffitta e sarà l'erba infine un prato verde come i nostri bei ricordi giovani cuori la tempesta ormai alle spalle addormentati alla luce delle stelle ok presidente brava lucia sesta classificata siamo a metà si direbbe invece no perché ci sono diversi ex equo d'ora in poi per cui sono ancora ben più di cinque i poeti da premiare il primo quinto è un avvocato riminese ha pubblicato 29 libri di poesie e ha ottenuto riconoscimenti in vari premi letterari è stato vincitore della sezione poesia in una delle prime edizioni del premio letterario città di castello con lungo il confine della sera con fiumi a nord del cuore lui è Antonio Zavoli c'era l'altro quinto classificato al posto non so se esistano fiumi a nord del futuro povero verso dove la parola non serve ho tolto ogni benda possiedo solo un silenzio impavido la parola trema vi sbiglia l'anima mortale strappa un respiro spero sia tutto diverso e questo sia un non tempo non so se esistano fiumi a nord del futuro bravo avvocato Zavoli da Rimini sarà parente mi viene da domandarmi vabbè ce lo dirà quando faremo la conoscenza diretta quando rifaremo visto che ha già vinto molti anni fa un'edizione del premio città di castello l'altro quinto il presidente è pronto l'altro qui ce l'avevo già in mano prima era troppo pronto prima era troppo pronto che ne so c'è due cinque classificati perdiamo un po' la bussola l'altro quinto viene da San Giovanni Valdarno laureato in giurisprudenza scrittore di opere poetiche saggi ha ricevuto importanti riconoscimenti in diverse manifestazioni letterarie nel 2010 anche qui andiamo indietro con il ricordo ha vinto il nostro premio con la sua raccolta di poesie dal titolo Dissolvenze Stefano Zangheri con Collasso Gravitazionale punto bianco in questa corsa immobile del tempo una musica suona motivi che nel tempo hanno ricordo estesa sull'erba di un pensiero l'immagine del niente che ha deciso il cammino ossessioni velate dove guardo questo senso di inutile hissando a forza ancore di vita cammino la bruma di un'estate per perduti orizzonti mi fermo lento a riposare dove l'erba è il disegno che accoglie il corpo senza lasciarne pezzi da una parte e chiamo con la mano un punto già svanito in lontananza che non risponde non sa che questo affetto è parte di una vita che ha seguito un appiglio uscito dalle guide credendo insieme di non farsi male ottimo poeti di lungo corso che già abbiamo conosciuto in precedenti circostanze che ritornano con piacere evidentemente a città di castello anche perché trovano un ottimo riscontro mi pare di vedere siamo ad altri due pari merito partiamo dal maschietto lo dico a beneficio del nostro presidente per non ingenerare equivoci vive a Firenze dove è docente di lettere e dottore di ricerca in filologia dantesca autore di volumi di studi danteschi e di articoli pubblicati su riviste italiane francesi spagnole ungheresi e statunitensi affianca la passione per la poesia agli studi accademici ha partecipato a numerose edizioni del nostro concorso anche lui rientrando spesso nella decade dei premiati è Massimo Seriacopi con miti Euridice se guardo pure il cielo capovolto se non so dire più cos'è il domani se poesie cantare più non sento allora è vero sono solo spirito non c'è più nulla di Euridice antica era venuto un uomo a liberarmi adesso non ricordo nessun nome proserpina promise di lasciarmi ma la sua scelta fu di ritornare solo alla luce senza il mio fardello gli uomini ricercano il sentimento ma ma qualche cosa ha annuvolato il cuore Massimo Seriacopi dunque altra nostra vecchia conoscenza che si è classificato quarto assieme a ora la scopriremo abita Romano Dezzelino in provincia di Vicenza frequenta il corso di laurea magistrale in filologia e critica letteraria presso l'università di Trento non ho riferimenti quindi immagino trattarsi di una new entry per noi Laura Battaglia con Fenici e Ritorni nell'ora senza voce nell'ora senza voce trovare la parola che s'apre al mistero di somiglianze percepite tra spontanee similitudini e s'aprono i cerchi trovano ordine in moti orari silenziosi dall'incedere incessante di equilibri nuovi ritrovati nell'ora con più voce predicare il nuovo che parla metafore in occasioni somiglianti con supposte parole primitive dal Veneto dunque Laura Battaglia quarta siamo per conoscere la composizione del podio mi piace però sottolineare una cosa che magari è ovvia però non è male ricordarlo chiaramente in tutti i concorsi c'è chi vince che arriva secondo e terzo ma i finalisti di questo premio nell'ambito di centinaia come avete sentito di opere ritengo debbano essere pienamente soddisfatti già di essere in questo novelo per cui diciamo che ci sono dei vincitori per forza di cose ma debbono ritenersi ugualmente vincitori per certi versi anche tutti quelli che abbiamo citato quindi dal decimo a scendere e ci complimentiamo assolutamente con loro poi magari è questione di dettagli tra l'uno e l'altro ma insomma tutti bravi assolutamente detto questo a beneficio dello statistico professor Monti i tre vincitori vengono uno dal centro uno dal nord e uno dal sud quindi c'è meglio di così siamo altamente democratici partiamo con la medaglia di bronzo per usare una terminologia sportiva Marchigiano di Ancona è laureato in matematica in scienze politiche a Padova vincitore di numerosi concorsi letterari oltre a cimentarsi nella scrittura di poesie è anche autore di saggi Paolo Borsoni con l'attenzione lieve sulle mie labbra io sono un lago appena increspato il suo tocco una foglia che cade sull'acqua limpida senza tremare chiudo le tende verdi al mormorio del fiume e al tintinnio della pioggia lei diviene mani e anima soffuse di silenzio lampi di luce brillano con scintillì sui bicchieri di chistallo i suoi quattro anelli sul comodino e il mio orologio dal tichettio squillante musicale accanto il sentimento la forza e la dolcezza in una notte pura e trasparente con appassionata delicatezza vibrano e al mattino quando di nuovo ci baciamo l'immensità è sulle mie labbra ancora Paolo Borsoni dunque in terza piazza riceve oltre i premi di cui vedete un esempio qua alla mia destra anche l'opera una di quelle del nostro Walter Ceccarelli a questo punto siamo fra i primi due l'Olimpo abbiamo detto uno al centro uno al nord uno al sud tutte località di mare un altro indizio tanto per secondo classificato dalla Liguria Genova dove vive lavora come insegnante scrive poesie da quando era ragazzo spinto dal forte bisogno di introspezione che suscita in lui l'epoca moderna con sentimento a maggio secondo Gianni Fabiano questo mondo questo mondo quando si sarà girato abbastanza da non riconoscerlo più forse ci mancherà o forse lo guarderemo come si guarda una distanza prima di riprendere il cammino lungo la nostra nuova strada oggi a me ricorda un mondo che si è girato su un fianco e continua a sognare perché anche allora c'era una strada che somigliava a questa e c'erano alberi e ruscelli e colori posati intorno come piume c'era un antico dolore che oggi ha smesso di morire e un'inattesa scoperta appesa a un mattino ancora da raccogliere ognuno conosce tanti mondi che continuano a girare anche quando non li sentiamo più e a sognare come bambini addormentati su un fianco quando mi siedo da qualche parte ad ascoltare il mio sogno ancora sorpreso so che non potrebbe essere diverso talvolta gli occhi scappano via e ritrovano qualcosa magari nella luce lieve di un tramonto o sopra un sasso che riaffiora dall'acqua ritrovano qualcosa allora mi sorprende la distanza eppure su quel sasso avevo pianto e nessuno lo sapeva l'acqua del fiume in silenzio deve averlo lavato senza dirmi niente tra qualche tempo scoprirò un mondo nuovo spunterà dietro una stella così come oggi è apparso il mio e quando mi fermerò a guardarlo magari nella luce lieve di un tramonto o sopra un sasso che riaffiora dall'acqua mi piacerà se sarai ancora qui ad ascoltare un mondo che continua a girare con questo stesso battito del cuore bravissimo Gianni Fabiano piazza d'onore con sentimento amaggio per lui come per il primo classificato che fra poco renderemo noto l'onore della pubblicazione della propria opera da parte della casa editrice luoghi interiori così come altri come gli altri due primi di ogni sezione lo ricordiamo perché insomma come premio non è male si fa per dire allora siamo pronti con la vincitrice è una signora della sezione poesia per la quattordicesima edizione del premio letterario città di castello nasce e vive a lecce la scrittura e i romanzi sono la sua passione da ormai sette anni si occupa anche di poesia e partecipa a vari concorsi ottenendo riconoscimenti o menzioni d'onore è stata già finalista per due volte al premio letterario città di castello con altrettante opere inedite patrizia francioso il cerchio il sipario lo specchio è lei la vincitrice l'onore per lei della lettura di due addirittura pezzi da parte del nostro presidente cambio di stagione siamo nella stagione del cambio negli armadi ante si aprono cassetti si svuotano grucce grucce si spostano maglioni si assemblano coperte si archiviano nella stagione dei letti che si disfano e si rifanno alcuni intatti restano bloccati sul solito sul soldo di ninne e nanne lontane di giochi e porte che sbattono di voci e canzoni che squarciano rimbocando di tanto in tanto gli orli per necessità d'appiglio che intorno le speranze tacciono e virate dal tempo altri si avvicendano negli istituti di cura nelle cure nei panni che non si lavano più in famiglia nennie come preghiere si diffondono il tepido flusso del sangue e mescolano implorando la madre terrena e la madre santa distanti e in cielo entrambe letti interscambiabili catalogando per coltri e odori sconfitte e soffitte mentre scioriniamo anniversari sbagliati privi del supporto dei ganci a sue fatti alla veglia dei rimandi e plagiati da comode teorie che nulla tange sudati e ansimanti per poi rientrare nei ranghi rialzandosi e piegandosi con fare meccanico che della meccanica vorremmo le straneità si logora il pathos s'accumulano s'accumulano gli scarti vediamo la seconda eccola qua disincanto il peso specifico della felicità è nella sostanza dei pensieri il matto il matto lo sciocco ne hanno dimestichezza più facile per loro lavorare con gli scarti indirizzare incanalare ingrossare prendersene cura la cura dell'accoglienza che implica lasciare andare la disinvoltura la disinvoltura è un privilegio costa consapevolezza e si misura in grammi Patrizia Francioso dunque che vince proveniente da Lecce la 14esima edizione del premio Città di Castello sezione poesia vogliamo fare un applauso supplementare al nostro presidente insomma ci ha dato un saggio al quale siamo abituati però è sempre un piacere la lettura delle opere grazie grazie bene abbiamo finito io la mia scaletta Antonio non prevede altro anche perché mi dispiace non poter notare l'espressione soddisfatta rilassata in alcuni casi forse un po' contrariata perché pensavano di piazzarsi meglio dei nostri concorrenti virtualmente però me la immagino sono lì davanti al computer vi voglio dare ma poi lo faranno meglio di me coloro i quali mi seguiranno appuntamento all'anno prossimo nella speranza ovvissima che insomma le cose cambino e tornino ad essere quelle di prima sono d'accordo col professor Monti che sarà un'esperienza che ricorderemo anche positivamente per certi punti di vista io sono un po' tradizionalista mi pare mi piace un po' le altre 13 edizioni comunque va bene anche questa per l'amor di Dio giustamente dobbiamo cogliere gli aspetti positivi e lo facciamo senza meno Antonio cominci tu a chiudere non voglio essere ripreso per la lunghezza dell'intervento ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato oggi hanno seguito questa cerimonia un grazie sincero per il loro essere qui oggi e non è un dettaglio al professor Luciano Monti a Luciano affettuosamente mi piace questo rapporto di collaborazione che sta crescendo e anche dal suo intervento avete anche voi capito lo spessore della professionalità di Luciano ringrazio ovviamente Alessandro perché senza di lui questo premio non sarebbe arrivato dove è oggi e contiamo ancora tanto sulla sua collaborazione e amicizia ringrazio Osvaldo Bevilacqua per il suo bellissimo intervento per le parole di apprezzamento che ha avuto per noi e per me in particolare ringrazio Maria Borio anche lei era fino a ieri fra le nostre compagne qui a teatro ma è una indisposizione però non ha impedito di ascoltare il suo bellissimo messaggio interessantissimo sulla poesia moderna ringrazio l'assessore Vincenzo Tofanelli per la sua presenza che testimonia la vicinanza del comune di Città di Castello a questo progetto ringrazio Renato perché nonostante il silenzio in sala è stato oltremodo brillante bravo ringrazio Alice Forasiepi per aver letto molto bene i testi delle nostre opere l'appuntamento è per la prossima edizione come vi ho promesso da domani cominciamo a lavorarci perché non sappiamo fare diversamente grazie infinite a tutti scusa Antonio mi permetto vogliamo ringraziare questi bravissimi tecnici che ci hanno permesso di arrivare nelle case di spero migliaia assolutamente sì è stato davvero un lavoro fatto all'ultimo momento ma con grande professionalità quindi ringrazio Lorenzo Danna e tutto il suo staff ovviamente anche gli operatori del teatro perché anche loro hanno messo a disposizione la loro pazienza la loro professionalità e veramente ringrazio Roberto per le sue fotografie che poi riusciremo a conservare per testimoniare questa edizione mi ero dimenticato ma succede sempre così di qualcuno ci si dimentica sempre e ne chiedo scusa io sono qui per questo pronto a ricordartelo grazie ancora dunque all'assessore alla cultura Vincenzo Tofanelli se vuole salutare brevemente i nostri amici ancora in visione ne saremmo felici grazie a tutti un saluto quindi da Cile di Castello per me è stata una prima esperienza ringrazio a voi di essere qui oggi di avere quindi presenziato questo premio e questa diciamo questo premio elettorario e al presidente Quasimodo voglio dire che lui immaginava pieno questo teatro io non ci sono riuscito però ho immaginato la suspense e l'attenzione di coloro che partecipavano al premio penso la gioia da casa mi sono immaginato la felicità di aver preso questo premio quindi grazie a tutti e aspettiamo tutti che il prossimo anno questo teatro sia pieno e che si possa fare la prossima edizione in una maniera molto più diciamo coinvolgente grazie grazie assessore Tofanelli grazie anche al professor Luciano Monti che come vede alla fine un pizzico di ottimismo siamo riusciti a tirarlo fuori insomma per quello che possiamo ma lo ringraziamo anche per lo spunto veramente felice che ci ha lanciato come al solito tocca al presidente che si è già rivestito pronto per uscire invece no si deve togliere la mascherina e darci la sua vorrei dire benedizione se non fosse urbi una simil benedizione io niente sono felice di essere qua nonostante questo deserto rosso di cui abbiamo qualcuno parlato prima anche bellissimo film di Antonioni e niente speriamo che l'anno 21 sia invece di doverlo immaginare sia realmente pieno anche nel tre i quattro ordini di palchi è un teatro che meraviglioso devo dire io girando come attore ne ho visti molti però il genere di teatro che mi piace di più è quello all'antica ferro di cavallo come questo che e poi sono fatti con grande criterio arte hanno una bellissima acustica e hanno una profondità molto interessante anche una soffitta per cui si possono portare anche scene molto ingombranti qua io niente io credo nella poesia se no non sarei qui ecco quindi sono nato in una casa dove la poesia era il pane quotidiano quindi credo di aver fatto quasi indigestione di poesia però mi intriga sempre leggerne quando scopro qualche nuova voce poetica interessante e importante ecco per me è una gioia ecco io ultimamente nel panorama italiano spero che magari possa anche venire qui o pubblicare con con questa casa editrice di Vella io Cristina Vivinetto è una grandissima voce ha 26 anni ed è veramente la nuova voce della poesia italiana ecco speriamo comunque che ne vengano anche altre la quattordicenne prosegua mantenga le promesse che già si sente già che c'è adesso proprio appena uscito anche un libro che è l'opera omnia di Quasimodo è un Baobab adesso sono dei libroni belli così ho detto quella della Mondadori ho detto se poi qualcuno mi fa innervosire è un'arma impropria perché uno prende una una cosa in testa di Baobab lo stendi ecco e che raccoglie anche tutte le poesie giovanili quindi quelle che scriveva a quattordici quindici sedici anni e documentano la crescita di un grande poeta quindi speriamo che sia così anche per la nostra amica va bene grazie altro di me non saprei non vi saprei narrare ecco come dice Mimì nella bohème ecco sono spero di esserci ancora l'anno 21 e che tutto sia diverso come al solito ottima conclusione grazie a tutti anche da parte mia grazie in particolare a coloro i quali hanno avuto la pazienza di seguirci dalle loro case e di coloro interferite pure con noi tramite i social sarà un piacere leggere le vostre impressioni grazie ancora da Renato Borrelli all'anno prossimo speriamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti